La relazione romantica tra Gemma e Giorgio ha suscitato l'interesse di milioni di spettatori. I due si frequentavano da otto mesi intensi prima di decidere di mettere fine alla loro relazione. La loro separazione è avvenuta subito dopo la pausa estiva del programma, quando Gemma è tornata in trasmissione più forte che mai, lamentando tutte le mancanze del suo cavaliere. Nonostante la rottura, Gemma non ha mai smesso di amare Giorgio, e a distanza di mesi si è finalmente dichiarata. Purtroppo la sua dichiarazione non è stata ricambiata, e Gemma ha dovuto sorbirsi un secco due di picche. Entrando nello studio, Gemma è apparsa radiosa, con una luce meravigliosa che illuminava il suo viso, come quando una donna incontra il suo principe azzurro. In quei mesi, Gemma aveva perso un po' di lucidità a causa del forte coinvolgimento con Giorgio. La differenza di sentimenti tra i due era evidente, ma Gemma era troppo presa dalle emozioni per ragionare con il cervello anziché con il cuore. Nonostante l'epilogo non sia stato felice, Gemma ricorda ancora con forza il sentimento che provava per Giorgio, tanto da farle sembrare che non avessero bisogno di nient'altro che di loro stessi. Nonostante non abbia avuto altre storie dopo di lui, Gemma ha sempre avuto lo stesso epilogo nella sua vita sentimentale. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.